Qual è lo sfondo migliore da impostare sul nostro ecoscandaglio? Conviene cambiare tra giorno e notte e tra le varie situazioni di pesca? In questo video vi darò le mie considerazioni e qual è, secondo me, il miglior setting per riuscire a vedere nel miglior modo i target sul nostro schermo. La visibilità dei target, che è una tra le cose più importanti, dipende dalle dimensioni dello schermo, la risoluzione, la luminosità. Ma un altro aspetto, non meno importante, riguarda il contrasto dei colori. Questa è una cosa un po' sottovalutata ultimamente, però tutte le nuove macchine ci mettono a disposizione, nel menu, la possibilità di scegliere tra più colori di sfondo. Ogni colore di sfondo ha chiaramente delle caratteristiche diverse ed è molto importante capire questo, perché ci permette di mettere in risalto di più il fondo o i target, o una via di mezzo. Un'altra cosa importante sicuramente riguarda l'utilizzo dell'ecoscandaglio tra il giorno e la notte, e qui bisognerebbe fare un'altra parentesi. Più luce abbiamo in cabina, sicuramente, più abbiamo difficoltà di riuscire a vedere le cose che stanno fuori, al buio. Sicuramente ci viene incontro il fatto di poter settare l'ecoscandaglio sul screen scuro, cioè nero o blu scuro. Ma secondo voi è proprio utile utilizzare lo sfondo chiaro anche di giorno? Beh, io non sono più così sicuro di questo. Fino a circa 4-5 anni fa usavo lo schermo bianco, però mi sono accorto che tantissime volte, tantissimi particolari, in questo modo li perdevo. E adesso vi faccio vedere perché. Facciamo qualche prova in diretta con il mio ecoscandaglio che è in modalità demo. Andiamo sulla sezione Fish Finder e questo è il demo del mio ecoscandaglio. Qui, in questo momento, ho una rappresentazione di un po' di target con sfondo bianco. Vediamo un po' cosa succede quando vado a cambiare lo sfondo. basso verso l'alto, scelgo Overlay e provo a andare sul nero. Come vedete, gli stessi target che avevo visto prima sono molto più ben visibili con lo sfondo nero. Assolutamente. Facciamo un'altra prova. Proviamo ad andare a modificare anche il gain. guadagno e comincio ad alzarlo. In questo momento riesco a vedere bene i target. Mettiamoli ancora un po' più a fuoco con i clatter. E' già alto. Bene. Perfetto. E adesso cambiamo lo sfondo. Passiamo con uno sfondo bianco. Come vedete, i target si vedono peggio sul sfondo bianco. Questo è sicuro. A meno che noi non abbiamo proprio il sole contro il nostro strumento, io direi che è sempre meglio avere lo sfondo scuro. Anche perché il target, il mark del nostro gain, di solito viene sempre rappresentato, quando è debole, con un azzurro chiaro. L'azzurro chiaro si vede molto bene rispetto al nero dello schermo. Sul bianco l'azzurro chiaro tende a essere un po' perso. Vedete? Ma non ci sono solo questi due colori. Nel caso della Furuno abbiamo un colore particolare che è stato studiato apposta per il sole, che si chiama appunto Solar. La differenza qual è? È che hanno invertito alcuni colori base per i nostri mark. Come vedete, l'azzurro corrisponde a un viola. Un viola rosso. E il rosso, invece, va sul verde. In questa tavolozza colori, in pratica, l'azzurro chiaro viene praticamente perso. Non c'è più. Ed mette bene in risalto anche i mark leggeri, come questa zona che sta passando adesso. Proviamo ad andare sull'azzurro. Andiamo sul bianco. Vedete? Si perde molto di più. Se andiamo sul nero si vedono molto, molto meglio. Alla fine, per quanto mi riguarda, io consiglierei di utilizzare sempre uno sfondo scuro, che può essere il nero o anche il blu scuro. Proviamolo. Che è questo. Però, sinceramente, preferisco sicuramente il nero. Proprio per un discorso di visione dei target. Il blu mette più in evidenza forse il fondo, ma il nero lo fa ugualmente molto bene. Una volta era raro poter cambiare il colore di sfondo dell'ecoscandaglio. Nelle ultime macchine questo è diventato abbastanza comune su quasi tutti gli ecoscandagli. Provate a guardare sul manuale anche del vostro ecoscandaglio se avete questa possibilità e fate voi stessi dei test. Vedrete che rimarrete stupiti di come può cambiare la visione a seconda del colore di sfondo. Grazie e ci vediamo al prossimo video.